Una cosa molto molto importante, dopo aver visto questo oroscopo, guarda anche quello del tuo segno ascendente e per il segno in cui hai la luna. Questo è molto importante per una previsione molto più accurata. Mi raccomando, va bene? Ciao caro amico del cancro, benvenuto. Andiamo a vedere anche per te l'oroscopo settimanale per i giorni dal 3 al 9 agosto 2020. Andiamo a vedere quali sono le previsioni per il segno zodiacale del cancro dal 3 al 9 agosto 2020. Cosa accadrà? Cosa si deve aspettare? Il segno del cancro? Ok, qui esce subito un bel re, un bel re di coppe. Quindi una persona comunque sia positiva nei nostri confronti. Ora questa non so, devo ritirare perché mi è uscita a metà, non si sa se è dritto o rovescia. Andiamo a vedere, vediamo subito sto signore. Aha, ok. Beh, allora qui cosa dicono queste carte per questa settimana? Qui sicuramente ci sono delle notizie che arrivano, delle notizie che arrivano, che potrebbe essere una telefonata, una comunicazione, diciamo molto più in generale. Anche se io sinceramente qui ci vedo più la comunicazione scritta, detta sinceramente. Comunque sia, sempre comunicazione si tratta. Allora, in queste carte io ci vedo la comunicazione da parte di questo signore. Quindi qui potrebbe essere un uomo che comunque sia è positivo nei nostri confronti, ci vuole bene, ci tiene a noi. Ma anche se non fosse una persona legata a noi da affetto, da simpatia, eccetera, eccetera, è comunque una persona che è ben disposta nei nostri riguardi. E' un re di coppe, va bene? Guarda, qui ci posso vedere addirittura, ci posso vedere una bella notizia riguardante il lavoro anche. Io qui ci vedo anche il firmare un contratto di lavoro, ok? In un'azienda. Io ci vedo anche questo, quindi una bella settimana anche per la professione, per il segno zodiacale del cancro. E secondo me è dovuto proprio a questa venere, cioè la venere dai gemelli che l'8 di agosto se ne va ed entra proprio nel tuo segno zodiacale, quello del cancro. Quindi ti porta, diciamo così, cose più favorevoli, cose positive, va bene? E qui lo vedo, lo vedo proprio. Oltre a questo, qui ci vedo anche una cena, una cena, una festa, insomma qui c'è una tavola imbandita con più persone. Quindi sicuramente farai qualcosa. E ci potrebbe essere, oltre a quello che ti ho detto, anche un incontro proprio di persona con una persona, insomma. Diciamo che ci farà battere il cuore, nel senso qui si vede emozionata o emozionato. C'è un'emozione dovuta ad un incontro o comunque ad una comunicazione. Vediamo a questo punto per l'amore, l'oracolo dell'amore che cosa ti dice? Cioè vediamo, per il segno zodiacale del cancro, per la settimana dal 3 al 9 agosto 2020 in amore, che novità ci sono? Vediamo un po'. E infatti qui c'è un'attrazione, va bene? E potrebbe arrivare infatti un invito, un invito a uscire, un invito ad andare a cena e bla bla bla, va bene? Se siete uomo siete voi che inviterete qualcuno, è ovvio. Guarda, attrazione, sentimenti romantici, quindi qui una simpatia c'è, eh? Qui c'è un'emozione, i bambini, quindi potrebbe essere veramente una persona nuova che ad oggi non conosciamo. Riconciliazione, lascia andare il bisogno di controllo, quindi qui le carte, insomma, mi faiano abbastanza chiare. Qui c'è un nuovo amore o la riconciliazione con qualcuno, questo è un po' ma sicuro. E addirittura, come mi dicono, molto presto. Quindi qui, durante questa settimana, le cose si muovono e si muovono bene, oserei dire io, va bene? Quindi, oltre all'amore, qui ci può essere, come abbiamo detto, la riconciliazione o un invito. C'è anche questa scena che può essere per motivi d'amore, ma anche per motivi, insomma, con altre persone, diciamo così. Ma dove io vedo di più l'accento è proprio la comunicazione di una persona, di questo signore, di questo re, verso di noi. Potrebbe anche essere il padre, eh? Il padre o comunque un uomo attratto da noi, interessato a noi. Ma anche io da queste carte, adesso andiamo a chiedere un po' l'esito anche con queste, queste carte io ci posso vedere anche la firma, diciamo così, per un lavoro. L'inizio di un lavoro, di un'impresa di un qualche tipo. Farete qualcosa o magari anche più di uno. Quindi vedete un pochino voi qual è la vostra situazione, vi dovete un po' giostrare e fare la tara con quello che vi dico naturalmente. Vediamo. Per il segno del cancro, 3, 9 agosto. Qual è la sintesi? Troppo una carta per vedere un po'... Infatti non è lei. Andiamo a vedere. Cancro. Di nuovo, avete visto? La stessa carta, quindi questa è. Qui sicuramente c'è o ci sono stati dei problemi, una perdita di un qualche tipo. Qui la carta mi parla di perdita, quindi qui ci sta che per alcuni di voi, effettivamente, qui ci sta tutta, eh? Questa riconciliazione con qualcuno. Quindi se avete discusso, se avete litigato, se non state sentendo qualcuno, qualcuno che non si sta più facendo sentire perché ci avete litigato, semplicemente perché non si sta facendo più sentire per cavoli suoi, qui vedete c'è la riconciliazione, c'è la novità che arriva, c'è il messaggio. Io ci vedo più il messaggio scritto che non il resto, eh? Poi c'è una telefonata, voglio dire, la prendiamo lo stesso. Ecco, voglio dire io. Vediamo un po' adesso l'astrologia che cosa ci dice. Vediamo un po' i segni zodiacali coinvolti per te e con te. Così magari capiamo anche di chi stiamo parlando. Allora, vediamo per il segno zodiacale del cancro, quali sono i segni, vedi anche qui mi parla di guarigione, vedete la lacrima e l'energia guaritrice, che è esattamente ciò che mi hanno detto anche gli altri oracoli. Comunque andiamo a vedere con quali segni zodiacali avrà a che fare il segno del cancro durante la settimana. Ok, qui abbiamo subito il segno del toro, il sagittario, toro, sagittario, vergine, scorpione, Cancro l'ho detto? No, non l'ho detto ve lo dico adesso. Segno del cancro. Gemelli e leone. Allora, andiamo a vedere. Vediamo. Allora, il leone, allora, toro, cancro, sagittario, vergine, scorpione, gemelli, leone. Questi sono i segni che più mi vengono in fuori, mi escono in fuori. Ovviamente può essere anche ascendente, o venere, o marte, o che pianeti che ci avete dentro. Fammi sapere nei commenti se ti ci ritrovi nella situazione, nei segni zodiacali. Lascia un bel mi piace, iscriviti a questo canale e io ti aspetto sempre qui con Penelope. Alla prossima, un bacione e a presto. Ciao! 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 Grazie a tutti.